Ethic Jobs è la prima startup in Europa che valuta e certifica la qualità del lavoro offerta dalle imprese. Lo facciamo somministrando direttamente dei questionari ai dipendenti, analizzandoli con i nostri algoritmi proprietari, restituendo un output che altro non è che una fotografia, un'istantanea di quello che è il sentiment e la felicità percepita dei dipendenti all'interno dell'azienda. In tre parole siamo giovani, motivati, innovativi.